frozen surgelati un grande negozio di specialità alimentari a sant'andrea un punto di riferimento di livello assoluto per tutti i consumatori di prodotti surgelati e da noi trovi tutti i migliori formaggi salumi e tutti i prodotti tipici calabresi una sortita cantina di vini particolari e di qualità come i selezionatissimi baroni capoano e poi ancora alle grappe le creme e i liquori della rinomata distilleria bottega frozen è garanzia di eccellenza e gusto per tutta la famiglia strizzando l'occhio al risparmio frozen tutto quello di cui hai bisogno a sant'andrea apostolo dello ionio via nazionale e per il periodo natalizio frozen prepara speciali cestini regalo con i propri prodotti buone feste a tutti